Un saluto a tutti dal criticone, questo che vedete è un prodotto che mi è stato inviato dalla ditta VIS si tratta di una batteria power bank portatile da 20.000 mAh che è veramente tanto un totale di output di 5A che anche questo è parecchio e infine abbiamo lo slide che ci consente di aprire o chiudere il lock della batteria tramite lo sfioramento col dito andiamo a vedere cosa c'è nella confezione dopo il trasporto si è un pochino infossata allora abbiamo la nostra batteria, abbiamo il cavetto e abbiamo un piccolo manualino per le istruzioni che posiamo qui andiamo a vedere il prodotto, anzi fatemi togliere questo oggetto da qui perché ruba la luce allora eccoci qua, vediamo la nostra bella batteria allora innanzitutto io vi posso dire che fa un bel effetto tenerla a mano perché è leggera come non mi aspettavo assolutamente perché di solito queste batterie vi spiego più è bassa la capienza e tanto più sono leggere questa qui che è sui 20.000 mAh solitamente io ne ho altre 4 e in genere sono molto più grandi cioè sono così almeno e solitamente pesano sul mezzo chilo questa invece sembra molto più leggera, sembra 200-300 grammi, non sembra molto più pesante andiamo a vedere le porte, queste che vedete sono due entrate micro usb e due porte usb cosa significa due entrate? questa è una novità che troviamo rispetto agli altri modelli una novità perché ci consente di attaccare una doppia presa di corrente e caricare più rapidamente la nostra batteria molto probabilmente all'interno saranno due singole batterie collegate in serie ma non importa, noi in questo modo possiamo caricare la nostra batteria più rapidamente andiamo a vedere come funziona invece lo slide avete visto? allora questo slide consente di accendere la batteria e iniziare ad erogare potenza dalle due prese la cosa interessante è che con uno sfioramento di un tocco possiamo effettivamente spegnerla oppure accenderla questa funzione è una funzione un po' fatemi passare il termine, mutaiola perché diciamo che all'atto pratico se c'era un pulsantino era forse anche meglio perché io preferisco le cose analogiche piuttosto che quelle digitali a scorrimento o touchscreen perché possono sempre danneggiarsi ma in ogni caso diciamo c'è è stata brevettata così quindi la prendiamo per quello che è insomma è molto molto fashion diciamo così all'interno c'è un piccolo manualetto di istruzioni se lo apriamo andiamo a vedere cosa dice qui in realtà un foglietto non è un manualetto e qui ci dice esattamente questa cosa delle delle porte appunto che abbiamo in input da 5 volt e entrambe che possono essere messe tutte e due connesse e perciò io direi che è un ottimo prodotto diciamo un prodotto innovativo se vogliamo e non tanto per questa barretta qui che invece direi per il fatto della del doppio caricamento per quanto riguarda il discorso di queste lucine ognuna rappresenta il 25 per cento di carica quando sono tutte accese abbiamo 100 per cento di carica di del nostro prodotto e io ho così a vederla ancora devo metterla sotto test devo vedere queste novità le troverete tutte sul mio sito e troverete tutto sulla diciamo sulla recensione scritta di questo prodotto per quanto riguarda il livello estetico e col prezzo se il prodotto funziona come credo io penso che sia un ottimo prodotto e che vale la pena acquistarlo